Buongiorno! Sto guardando tutorial su youtube per provare a farmi un bel caffè americano. Devo riempire questa cosa di acqua, però quella filtrata dicono perché è la key di un buon caffè. Questa è la rimettura qua, l'ho preso il filtrino, la rimettura qua, ecco ci ho fatto il casino perché non l'ho bagnato, un po' di altro. Ok, ok. Buongiorno! Grazie! Capito, grazie. Grazie! Grazie! Si sta facendo, sta facendo il rumore del caffè, della sveglia. Buongiorno! 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 período? Esatto! può essere nel senso se uno non ce la fa uscire di casa senza un caffè si può fare pure è abbastanza facile quindi buongiorno